Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi di questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo al crash dei giochi sull'applicazione EA Launcher ovviamente ho voluto fare questo tutorial perchè ho sentito che un utente sotto a un mio vecchio video aveva problemi riguardo a FIFA 24 che ogni volta che lo avviava crashava oppure quando giocava online crashava e niente questo è uno apre il gioco e crasha quindi in questo caso bisogna risolvere il problema direttamente sul gioco stesso quindi se andiamo un attimo nella libreria prendiamo un gioco qualsiasi per esempio prendo Need for Speed vado su visualizzare le proprietà del gioco e vado a mettere su sfoglia ovviamente mi porterà così nella sua cartella quindi per non avere problemi di crash andiamo direttamente sulla sua applicazione questa qua mostra altre opzioni proprietà compatibilità esegui il programma in modalità compatibilità per Windows 11 Vista ovviamente tu puoi provarli tutti testarli e vedere qual è che non ti crasha quindi io gioco in Windows Vista servizio del pacchetto servizio 1 disabilità ottimizzazione schermo intero esegui questo programma sempre ma sempre come amministratore modifiche impostazioni di più elevati esegui l'overwrite sul sistema avanzato e faccio ok e faccio applica una volta fatto tutto questo se andiamo sui tre puntini qui c'è scritto ripara se il tuo gioco crasha sempre crash e crasha c'è un problema nel gioco quindi vai sui tre puntini e lo puoi riparare ovviamente quello che ti consiglio di fare di disinstallarlo prima installare prima poi installare il gioco vai sui tre puntini e ripara così il gioco però prima di aprirlo riparalo quando l'hai installato poi chiudiamo un attimo ea launcher perché poi non ci serve più quindi chiudo questo tenete davanti le vostre credenziali per l'applicazione ea launcher perché andremo direttamente a cancellare le varie cache nella sua applicazione quindi andiamo su esegui per cento app data per cento scrivi qua e fai ok vai su app data local e andiamo a prendere ea launcher eccolo qua ea desktop ea launcher helper electronic cards e basta questi tre prendi queste tre cartelle e le cancelli io di qua svuti anche il cestino ovviamente abbiamo eliminato varie cache dell'applicazione puoi anche eliminare le cache del gioco stesso quindi se andiamo di nuovo su esegui app data e poi eliminare direttamente la cartella del gioco se è quella di fifa tu elimina quella cartella di fifa in app data chiudi qua ovviamente se hai anche problemi riguardo a scaricare i driver per la tua asca da video e il sistema operativo in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà a scaricare vari driver riguardo al microsoft visual c++ e al direct x and user runtime ovviamente su microsoft visual plus plus clicchi su visual studio e scarichi installi questi tre driver ovviamente se io in passato avevo installato guardate un po quanti driver per non avere proprio problemi sui giochi e in generale sul pc perchè io aggiorno sempre il mio pc il mio sistema i miei componenti la mia scheda video processore aggiorno sempre qualsiasi cosa per non avere tanti di quei problemi quindi scaricate e installate e lo stesso lo fate anche su direct x and user runtime per esempio se andiamo un attimo a scaricare questo setup ti faccio vedere cosa ti esce fuori eccolo qua il programma di installazione di direct x accetto così il contratto installa bing tool per questo qua no perché questo qua è un motore di ricerca avanti e installiamo così i direct x ovviamente questa sarebbe la quindicesima volta che installo questo setup quindi finisco cancello pure questo ora ritorniamo un attimo sull'applicazione ea launcher accedo così al mio account ok ora ritorno sulla libreria dove tengo il mio gioco tre puntini e lo avvio ovviamente come andiamo su visualizzare le proprietà trattino di x 11 e lo avvio come direct x 11 il gioco e fai salva e lo avvio se non dovesse funzionare qui dobbiamo direttamente andare su gestione dispositivi andare sulla nostra scheda video e vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento aggiornar driver cerchi driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili nel computer io ho tre due driver da installare sulla mia scheda video ovviamente per quelli che hanno una scheda video nvidia c'è l'applicazione geforce experience questa qua driver cerchi aggiornamenti e non devo fare nessun aggiornamento l'ultimo aggiornamento l'hanno rilasciato il 12 di dicembre come ho detto io tengo sempre tutto aggiornato per non avere problemi può essere anche per il fatto della sicurezza di windows quindi se andiamo un attimo sullo scudo questo scudo qua cerchiamo sopra andiamo su protezione firewall della rete e consente app tramite firewall faccio modifiche impostazioni consente un'altra app sfoglia questo pc e vado a mettere applicazione di quel gioco quindi se adesso vado a vedere dove sta need for speed need for speed eccolo qua ci metto questo e faccio apri faccio aggiungi e già nell'elenco delle eccezioni quindi facciamo ok e aggiungi così anche il tuo gioco fifa battlefield need for speed o altri giochi quindi oppure prova ad avviare direttamente un gioco con l'antivirus spento tipo non spento per sempre ma per 10 minuti io ovviamente uso anche avast quindi ci clicco sopra controllo protezione di avast disabilitare per 10 minuti e avvi così il gioco mi raccomando non tenerlo disattivato per tutta la giornata l'antivirus è importante per il sistema ora quello che ci resta da fare è avviare il gioco ovviamente a me il gioco si avvia come amministratore quindi clicco sul gioco questo gioco richiede delle autorizzazioni vabbè questo gioco richiede vabbè faccio ok ed ecco che si avvia ovviamente il gioco si è avviato senza nessun problema quindi se questo video ti è stato utilissimo come risolvere i problemi al crash sull'applicazione è a launcher se avete altri problemi commentate sotto al video se no se non siete riusciti proprio a risolvere questi problemi bisogna per forza chiedere aiuto al supporto della EA quindi spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao